Salve a tutti ragazzi, bentornati con Vladi e con Smutandato. Se vi ricordate bene, nel precedente episodio abbiamo chiesto di essere trasferiti al Frosinone. E incredibilmente siamo stati accontentati, è incredibile. La cosa brutta è che però sono stato infortunato e quindi in pratica ho stato l'intera metà stagione, però adesso siamo pronti per l'azione. Smutandato ha cambiato anche stile comunque, cioè non voglio dire, però ora guarderete il suo nuovo bellissimo aspetto. Allora, vediamo un poco. Contro il Sassuolo prima di vivere la prima giornata. Eh sì, senza giù lo è il Sassuolo. Avanti. Purtroppo partiamo dalla panchina. Vabbè, c'era da aspettarselo. Comunque questa è una squadra di Serie A. Però andiamo e vediamo cosa succede. Sassuolo prima di vivere la prima giornata. Sassuolo prima di vivere la prima giornata. Sassuolo prima di vivere la prima giornata. La prossima è contro la Roma Beh, andiamo dai Sperando che questa volta Taviamo un po' di spazio Non fai, sono tra i titolari Vediamo se c'è lui Eccolo, signori e signori Ecco il nuovo smooth andato Il nuovo look È spettacolare, non c'è niente da dire È spettacolare Via Da qui Ottimo La mette in mezzo Il tiro Gollo 1-0 contro la Roma Grande Dai cazzo Sono mutandato MASH L �m Con�� smootandato Smootandato se il signor Incredibile Mettila Smonto di testa Di testa E' un colpo di testa da manuale La coordinazione perfetta E' l'impatto con il pallone preciso Niente da fare per il portiere Sono andato in pressing Scivolata durissima Cerca di ammazzare il giocatore Viene ammunito La sua prima munizione non è d'accordo Guarda qui Buono Dai segna segna E fa fangolo in gol 4-0 Oddio Fortissima Grande Carlini Ragazzi chiudeteli Grande Buona smutandato Torna indietro Grande l'1-2 Viene seguito bellissimo Mette il passaggio filtrande Incredibile Incredibile Smutandato Incredibile Go 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 Incredibile Bellissima stazione Vai Sbagliato il passaggio Non va E finisci così 5-0 Con una tripletta di smutandato Alla sua prima partita in serie A Ok la prossima Ok annuncia il miglior giocatore della UEFA Ovviamente non saremo noi Anche se lo scorso è impremessi del cazzo Anche se lo scorso campionato abbiamo fatto paura Eccolo lì Sbagliato Smutandato Comentato così Nel nuovo partita L'atmosfera Sbagliatoio E' fantastica Non pensiamo agli avversari che Aspetta Come si cambia Ok Non pensiamo agli avversari che ci aspetta Non giochiamo Come sappiamo fare Guardate quanto cazzo è brutto Oltretutto Cioè ma che cazzo Ottimo 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 Smutandato Tre tiri A tre gol Scusate Mi so Ultimo Tre pure Ottimo Ok Avanziamo Avanti Contro il Napoli Questa partita la dedichiamo ad Enzo Eccolo Pirlo Incredibile Bello smutandato La tonalità Va da lunga Lunga qui Quella smutandato Rientra Smutandato Il tiro Go 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 Va te fa una bella fotografia Va Mio Dio C'è Di paraocchio A posto dei capelli Dai Attenti Grande le ali Grande Bulo che gollo che ha fatto Madonna Sto Giorginio di merda E' un affronto E' un affronto questo Cazzo Ragazzi Attenti Cazzo Non pichiamo il secondo gol Bella No Madonna No Così no No Si rubaccia dal quartiere Ragazzi Ok 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 Avanza Avanza Si è tutto andato Si accentra Si accentra Rientra Il tiro Palo Madonna Palo Che culo Che c'hanno Che culo Ok Riprende palla Si gira Dribble Smutandato Carica il tiro Madonna Madonna Si gira Smutandato Rientra Maronna Dai Dai Che cazzo è stupido Di me Grande smutandato 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 No 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 Cazzo Cazzo No 2-1 La madonna Siamo scesi quinti Con una sconfitta Udinese è primo Ce la possiamo ancora fare Ce la Udinese fa D'altro no Il campionato è iniziato adesso La mia squadra Il mese è il campionato italiano E c'è smutandato Si si C'è smutandato Ye ye Coppa Italia Penso che sia il crotone Sono quei nomi strani Di pesce E non stiamo nemmeno in forma Vabbè ragazzi Penso che per oggi sia tutto Mi dispiace ancora che non possiate vedere la mia bellissima faccia in cam Però sto cercando di risolvere veramente al più presto Perché devo acquistare una nuova cam Un microfono Quindi Dovrei risolvere tutto nel breve tempo Il breve tempo possibile Beh da Blady è tutto Se il video vi è piaciuto mi raccomando Mettete un mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Alla prossima Alla prossima